arrivata da Roma, assolutamente sbagliata, perfino Ministero dell'Interno, e cioè si può passeggiare purché si mantenga un metro di distanza. Questa è un'idiozia, non si può camminare per strada senza ragione motivata da parte del cittadino. Allora, noi cercheremo di prendere qualche misura in più. Sto preparando un'ordinanza che non solo ribadisce che è vietato camminare per strada senza motivo di urgenza, o sanitario, o approvvigionamento alimentare, o proprietario di cani e quant'altro. Costringeremo tutte le persone individuate a circolare senza motivo a fare la quarantena di 15 giorni. Cioè ti trovo in mezzo alla strada, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina, quindi in condizioni che chiaramente non segnalano emergenze, ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. E ovviamente una volta che c'è l'obbligo di quarantena è chiaro che se viene individuato fuori di casa sei passibile di sanzioni penali anche gravi. Siamo costretti purtroppo a fare questo lavoro.